La giunta comunale di Teramo ha dato il primo via libera allo schema di accordo per la risoluzione della convenzione del 2006 relativa allo stadio Bonolis. Ieri la giunta si è riunita per discutere l'accordo raggiunto con la società soleia di Franco Iachini che prevede la separazione della gestione della parte sportiva dell'impianto da quella commerciale. La gestione sportiva tornerà al comune mentre quella commerciale resterà al privato. Il percorso che stiamo seguendo è quello che avevamo annunciato cioè la definizione di un accordo transattivo che è finalizzato a chiudere il lodo arbitrale ma soprattutto a risolvere definitivamente la convenzione che ha creato tanti problemi sulla gestione dello stadio. Una risoluzione che passa per la separazione tra la parte sportiva e quella commerciale. Quindi con il comune che riprende la gestione sportiva dello stadio superando tutti i problemi che nel corso di questi anni purtroppo si sono verificati. La giunta ieri ha approvato lo schema di accordo che è frutto e figlio delle trattative lunghe e complesse che nel corso di questi mesi sono state portate avanti con il gestore che ringrazio per il confronto che fino adesso abbiamo portato e adesso si apre la fase invece di discussione in Consiglio Comunale che è l'organo competente a deliberare sulla risoluzione. L'accordo prevede che il comune versi 4,3 milioni di euro alla soleia di cui 2 milioni in anticipo. Questo atto conclude una complessa trattativa tra le parti caratterizzata da momenti di tensione ora superati. Lo schema è stato approvato in unanimità e il prossimo passo sarà la discussione in Consiglio Comunale a fine mese. I tempi sono rapidi nel senso che sarà subito aperta la fase della procedura consigliare. Ovviamente questo è un aspetto che deve tener conto anche della tempistica relativa alla necessità di riportare il Teramo Calcio a giocare al Bonolis perché sappiamo tutti che non è stato trovato in questi giorni l'accordo tra le parti e quindi gestore e società di Teramo e quindi momentaneamente è stato comunicato allo stadio di Notaresco come campo finalizzato all'iscrizione. Quindi c'è anche questo aspetto perché è ovvio che nel momento in cui il comune di Teramo riprenderà la gestione dello stadio ci sarà appunto la comunicazione alla federazione che peraltro è già anticipato sul fatto che il Teramo giocherà al Bonolis. Grazie a tutti.